E il giallo dei pentastellati, il colore dominante della pattuglia abruzzese che varcherà le porte di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, frutto del 40% raccolto in Abruzzo dal movimento fondato da Beppe Grillo. In totale i parlamentari a espressione del voto in regione sono 22, 14 deputati e 7 senatori. Di questi ben 11 sono pentastellati, 3 sono del PD, 3 della Lega e di Forza Italia e 1 di noi con l'Italia Udc. Tornano a Roma per il loro secondo e ultimo mandato, almeno come scritto nel regolamento interno dei 5 Stelle, Gianluca Vacca, Daniele Delgrosso e Andrea Colletti alla Camera, oltre a Gianluca Castaldi al Senato. Tra i volti nuovi dei 5 Stelle tante donne, alla Camera eletti Fabio Berardini, già consigliere comunale di Teramo, Valentina Corneli, Carmela Grippa, Daniela Torto e Antonio Zennaro. Per il Senato invece è stato eletto il giornalista e già direttore del centro Primo di Nicola, oltre a Gabriella Di Girolamo. Nel Partito Democratico, travolti dalla debacle, tanti nomi eccellenti come quello di Sandro Mariani o dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Al Senato entrerà il capolista del proporzionale, cioè il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ieri sera, in un collegamento telefonico al Tg6, ha lasciato intendere che accetterà l'incarico a Roma, però aspettando per l'ufficializzazione della decisione l'ultimo minuto utile prima della decadenza per incompatibilità, così come prevede la legge. Se le cose andranno in questo modo, a breve gli elettori abruzzesi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale, anche perché, a causa della sconfitta pesante, le fibrillazioni all'interno della maggioranza di centrosinistra non mancano, con l'invito al governatore a dare le dimissioni, che ieri è arrivato da più parti. Alla Camera, invece, sempre nel Partito Democratico, sono stati eletti Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane. Ancora nel centrosinistra fa rumore la bocciatura del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, impegnata con la lista civica popolare della Lorenzin. Nel campo del centrodestra, invece, il boom della Lega si trasforma in una rappresentanza inedita per l'Abruzzo. Alla Camera proda il segretario regionale Giuseppe Belachioma, oltre a Luigi Deramo. Al Senato, invece, ci sarà Alberto Bagnai. Forza Italia è presente alla Camera con Antonio Martino e Gianfranco Rotondi, al Senato con il coordinatore regionale azzurro, Nazario Pagano. Anche in Forza Italia, però, ci sono state delle esclusioni rumorose, come quelle di Paola Pelino, Emilia De Matteo, Antonella Di Nino e Tiziana Magnacca. Unico rappresentante di noi con l'Italia Udc in Parlamento è Gaetano Quagliariello al Senato. Non ce l'ha fatta, invece, il segretario regionale del partito, Enrico Di Giuseppe Antonio, che ha perso nell'uninominale per la Camera dei Deputati. Fuori dal Parlamento tutti gli altri partiti, a iniziare da liberi e uguali, per proseguire con potere al popolo e con il partito comunista, con Casa Pound, Italia gli italiani, popolo della famiglia, dieci volte meglio e partito del valore umano. Nessuno di questi, infatti, è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 3%. Grazie per la visione!